Una serata importante che è tornata anche a distanza di anni perché questa sera si è celebrato i 20 anni, sono celebrati i 20 anni della scuderia Ferrari Club Villa Rosa, tanti presenti, tanti i premiati soprattutto. Sì, ci tenevo a questa cosa perché sono 20 anni e sono alla guida di questo club e sinceramente sono tantissimi. Sono tantissimi e volevo vedere e tastare un po' il polso ai soci, agli appassionati, agli amici se ancora c'era questo entusiasmo che ci ha portato a creare questo club 20 anni fa. Tante le iniziative soprattutto e tante anche quelle in cantiere per i prossimi anni. Sì, se tutto va nel verso giusto perché purtroppo con i tempi di oggi non è tanto facile, abbiamo diversi appuntamenti nell'anno 2023, quindi aspettiamo gli eventi nel tempo che passa. Soprattutto tanti amici che vi sono venuti a trovare anche da fuori regione. Sì, abbiamo dei buoni rapporti con alcune realtà di club nelle Marche Abruzzo e ci teniamo in costante contatto e collaboriamo insieme.